I carabinieri della stazione di Pioppo hanno arrestato un 33enne del posto con l'accusa di produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari dell'arma hanno effettuato un controllo nell'abitazione dell'uomo rinvenendo oltre 350 grammi di marijuana, sostanza contenuta in diversi barattoli di vetro, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Al piano interrato della casa, invece, è stata scoperta una vera e propria serra per la coltivazione della cannabis, attrezzata con lampade alogene, vasi con terra, sistema di riscaldamento, aeratori con tubi per la ventilazione dei locali e fertilizzanti di vario tipo. A casa del 33enne i carabinieri hanno trovato anche uno stiletto con lama a doppio filo della lunghezza di quasi 50 centimetri. Tutto il materiale, la sostanza stupefacente e l'arma bianca sono stati sequestrati per le successive analisi. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.